Siamo con Ditmer Nocler, medaglia d'argento nella distance, medaglia di bronzo ieri nella sprint, insomma è stato un weekend positivo questo di Fornia Volt. Sì, sono molto contento delle gare che ho fatto qua, ieri ho fatto una buona qualifica e poi sono comunque arrivato in finale che è un buon allenamento anche. Oggi sapevamo che era una gara durissima, pensavo già che sarebbe stata un po' una lotta tra me e il Defa vedendo un po' gli allenamenti, però lui va veramente forte, io sono contento della gara che ho fatto e posso migliorare come tutti e abbiamo visto che sta andando bene la preparazione, stiamo bene e continuiamo così per arrivare al meglio all'inizio della stagione. Una stagione che per te è molto importante come per tutti, per i giochi olimpici e so che tu guardi e ti sei segnato in modo particolare quella team sprint che speri di fare insieme a Federico Pellegrini. Sì, io spero di andare forte durante la stagione e di potermi qualificare per quella gara che è la gara migliore che ho all'Olimpiade, però ci sono anche altre gare, c'è la 50 km in tecnica classica che mi piace molto e poi puntiamo tanto anche alla Stafetta come squadra. Proviso di Stafetta, l'ultima cosa, quanto ti fa piacere aver visto un Francesco De Fabiani già così in forma? Ma sapevo sempre, De Fabiani è forte, l'anno scorso non è riuscito a esprimersi al meglio, ma ci sta e sicuramente quest'anno va di nuovo forte e poi si vedrà, però lui è sicuramente uno di quelli che può arrivare costantemente nei primi cinque Coppa del Mondo. Grazie mille. Grazie.